Buongiorno a tutti, molti di voi vorrebbero aiutarci ma non sanno come funziona Kickstarter. Questo video sarà una veloce guida all'uso della piattaforma. Cos'è Kickstarter e come funziona? Kickstarter è oggi la piattaforma web di crowdfunding più importante del mondo. Il crowdfunding è una forma di finanziamento cosiddetta dal basso, in cui sono gli utenti stessi a dare il loro contributo economico dopo aver scoperto e apprezzato un progetto. Su cosa scommette? Sul valore della condivisione web e sul diretto interesse dell'utente finale a migliorare o essere partecipato al progetto che intende sostenere. Kickstarter è quindi condivisione e partecipazione. Come funziona Kickstarter? Kickstarter funziona seguendo l'idea o tutto o niente. L'idiatore del progetto stabilisce un goal, la somma di cui ha bisogno per dar vita al progetto. Ad esempio, nel nostro caso, il goal è 7.000 euro per le spese della mostra e della pubblicazione. Se grazie ai vostri aiuti riusciamo a raggiungere la somma stabilita, possiamo utilizzarle e dar vita al progetto. In caso contrario, perdiamo tutti gli aiuti raccolti finora. Come aiutarci? La nostra pagina Kickstarter la potete trovare direttamente da Facebook, ovvero nella nostra pagina Lacunae. Cliccate Guarda il video e sarete indirizzati alla nostra pagina Kickstarter. Nella nostra pagina troverete la nostra storia, con la mappa dei luoghi analizzati, alcune fotografie presenti nel progetto e a destra trovate i premi suddivisi a seconda diversi target. Qualcuno di voi potrebbe decidere di donare 10 euro, 35, 50 e così via. Abbiamo predisposto per ogni target differenti premi. La nostra pagina si può trovare anche attraverso la piattaforma di Kickstarter direttamente, quindi kickstarter.com su Search Project, qui a destra, scrivere il nome Lacunae. Ed eccolo qui. Nel caso vogliate aiutare e finanziare questo progetto, è sufficiente cliccare il pulsante verde a destra, Back This Project, Attendere il caricamento, Scegliere tra i vari premi, ad esempio 80, in più mettiamo 100, cliccare Continuare, identificarsi Facebook, o con l'email, e non un nuovo password. Una volta identificati, vi farà tornare alla pagina dei premi, dove basta cliccare Continua, vi farà inserire i vostri dati bancari e il gioco è fatto. Spero che questo video vi possa essere stato utile e vi ringrazio. Grazie a tutti! Grazie a tutti